ciao amici benvenuti sul mio canale youtube vado a fare un pane integrale con questa farina macinata pietra del molino caporello è un molino che sta a palestrina al sud di roma sopra roma come vedete usa grano italiano e locale userò un prefermento per questo pane eccolo qua l'ho preparato la sera prima e lasciato 12 ore a temperatura ambiente fino al mattino questa è la farina di tipo 2 e l'altra è farina integrale sono molto simili le farine macinate a pietra come sapete mantengono vedete dal colore non c'è traccia di crusca perché il chicco è macinato per intero quindi non c'è l'aggiunta di altri componenti che prima tolgono e poi rimettono questo è il chicco macinato a pietra e basta sono tutte e due dello stesso molino comunque io ho preso queste perché si trovano in zona però ce ne sono di ottime in tutta italia naturalmente ok metto nella planetaria la farina ci verso sopra il prefermento eccolo qua e mano a mano aggiungo l'acqua poi se volete lo potete fare direttamente dentro la planetaria io lo sto facendo così anche per farvi per farvi vedere la farina che sto usando l'acqua ne ho preparata 250 però poi mano a mano vedo quanta se ne tira calcolate poi che il prefermento è molto idratato perché c'è 180 di acqua 40 grammi di pasta madre e 180 di farina quindi ha già la la sua parte di idratazione diciamo che con l'acqua che metterò siamo intorno ai 70 70 per cento bene vado poi a far girare in planetaria per 10 15 minuti e dopo di che metto in una ciotola lo lavoro un pochino perché ho fatto girare poco che sto facendo questo lavoro di mattina e per non svegliare i vicini ho accorciato un po i tempi della planetaria la mia planetaria molto rumorosa devo assolutamente cambiarla ok lo faccio rilassare un attimo e poi faccio un altro giro di pieghe io l'ho lasciato un'ora riposare un'ora prima di fare giro di pieghe ecco qua questo questo è il secondo calcolate che sta facendo ancora molto caldo siamo a fine agosto quindi i tempi sono quelli estivi farò questo pane in giornata senza passaggio in frigo ok ora copro e lascio fino al raddoppio eccolo qua dopo quattro ore sono passate all'incirca quattro ore ora lo verso sul mio piano di lavoro e vado a fare due giri di pieghe con l'intervallo io ho lasciato un'ora con l'intervallo di un'ora tra una piega e l'altra e poi un'ora anche prima della formatura allargo un pochino con le mani senza mettere farina vedete si lavora comunque bene quando le trovo queste farine le prendo perché comunque sono buonissime sono veramente integrali mantengono tutti tutti i componenti del chicco però ecco poi c'è un dibattito in corso su questo perché anche la macinatura a cilindri oggi con i mezzi di oggi si riesce a fare una buona produzione di farina anche ottima quindi intervalliamo un pochino con la macinatura a pietra e quella a cilindri anche perché se la dobbiamo ordinare in altre parti d'Italia ci costa una cifra perché dobbiamo pagare il trasporto e quindi cerchiamo di trovare magari quella locale qui ho preparato anche i semini perché voglio fare una parte di questo impasto ci voglio mettere un po' di semini in modo che userò quel pane per la colazione della mattina bene ora allargo passato il tempo allargo anzi tolgo prima la parte con cui voglio formare una pegnottina piccolina con i semi e il resto allargo questi sono i semi allargo per fare un filone ci sono le bolle come vedete io qui ho voluto usare il prefermento ma voi se volete potete usare benissimo la pasta madre o i licoli cambiando le dosi naturalmente aumentando la dose della farina su 500 grammi di farina mettete 100 grammi di pasta madre o 70 di licoli quindi se ne fate 600 aumentate in percentuale un pochino di più come sapete io non sono molto tecnica quindi non sto lì a calcolare con precisione i grammi ok come vedete ho avvicinato i lembi ho formato un filone senza mettere farina niente adesso la possiamo mettere però un po' di semola ecco qua ora questo va in un cestino e aspetteremo la prossima lievitazione la seconda lievitazione ok ho messo un telo nel cestino e vedete la chiusura l'ho messa sopra ma dove poi lo rigiro lo ribalto e ci metto ancora un po' di semola mettiamola ancora un po' sotto copro e lascio lievitare poi mi formo anche la pagnotina mettendo i semi dentro qui ho già fatto un giro di pieghe con i semi al centro e li ho già messi dentro ora la chiudo a modi pagnottella così vicino ai lembi si ho saltato la sequenza delle pieghe però ho fatto l'ho allargato ho messo i semi e ho fatto un giro di pieghe la piccolina tanto ce ne metto ancora un pochino un po' sopra e poi anche questa va dentro dentro un cestino coperta sono passate presso a poco tre ore come vedete è cresciuto molto ho già acceso il forno perché avevo già controllato eh sì 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 devo infornare ed anche subito ho acceso il forno a 2,40 al massimo come al solito con un pentolino d'acqua intanto mi preparo verso il filone sulla carta forno che poi farò scivolare sulla teglia calda ci faccio dei tagli ok farò dei tagli trasversali in questo modo e poi faccio scivolare sulla teglia e in forno il pentolino l'ho lasciato fino a che non l'ho visto bello gonfio poi l'ho tolto ho abbassato un pochino a 2,20 e ho lasciato il pane in cottura poi alla fine ho abbassato ancora un pochino a 200 e messo a spiffero all'incirca sono in tutto 45 minuti ho cotto anche la pagnottina come vedete ed ora aspettiamo che diventi freddo per tagliarlo eccolo qua profumatissimo profumatissimo ed anche buono bene amici vi ringrazio della visione e come al solito ci vediamo al prossimo video ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti